Ci vuole la credibilità delle istituzioni, noi su questo dobbiamo lavorare tanto, così da far emergere il sommerso. A dirlo convintamente, Armando Forgione, prefetto di Chieti, nel cui territorio, il livello di permeabilità della criminalità organizzata secondo uno studio Eurispes è cresciuto del 2,08%, piccola percentuale, ma sufficiente a catapultare Chieti in testa alle quattro province abruzzesi e al trentottesimo posto nella graduatoria di quelle italiane. Questo aumento di infiltrazioni significa una diminuzione della sicurezza reale e percepita? La sicurezza percepita forse è maggiore sicuramente di quello che è il dato dell'Eurispes, ma questo non ci deve far stare tranquilli. E quella reale? Io le dico che sono ottimista nel dire questa cosa, ma l'ottimismo non deve nascondere però una realtà che non è. Io ritengo che proprio perché la popolazione di questa regione, di questa provincia in particolare, abbia nel suo DNA proprio una sorta di repulsione verso questo tipo di criminalità predatoria nascosta. Perché? Perché è gente operosa, sono persone operose, qua gli piace lavorare, insomma raggiungere dei risultati. Certo è che purtroppo il momento è delicatissimo. Ed è il momento dell'usura e del riciclaggio vista l'economia fiaccata dal Covid, anche se ben prima della pandemia in Abruzzo e nel Chietino usura e riciclaggio che tutti insieme fa anche infiltrazioni mafiose trovavano sponda anche in questa provincia nel suo quadrante sud, perché si diceva ai 420 l'Abruzzo è un'isola felice. Era, forse.